Cosa so di Napoli. In passato ho visitato Pompei. Ho visto la costa amalfita che è pazza. Non ho mai sparato a Napoli. In passato era complicato. L'avrei fatto ma non avrei mai pensato di farlo come un allenatore del Napoli. Sarà complicato lo farò allo stesso modo. Quando abbiamo fatto un buon lavoro e riposerò. Scoprirò la città e la campania. Lingua napoletana? Non lo so ancora. Ma sarai una buona scuola per me. Appello ai fan. Un grande saluto e grazie per l'accoglienza. Darò il meglio per continuare a vedere i fan gioiosi.